Stop alle zanzare nell'area di gonfienti, ma tutelando l'ambiente. Questa settimana l'interporto della Toscana Centrale ha dato il via alla disinfestazione ecologica per risolvere il problema delle zanzare nelle aree verdi. L'intervento, che proseguirà per tutta l'estate, impiega prodotti di origine naturale che non hanno impatto inquinante e che non sono dannosi per l'uomo e per gli altri insetti. Una scelta innovativa, già percorsa da qualche comune in Toscana, come quello di Carmignano, Montepulciano e Torrita di Siena, e che è stata affidata a un'azienda del territorio, la Saetta. Prato esprime tante aziende e tante potenzialità anche di alto livello. Anche in questo caso qui abbiamo scelto di farci rappresentare, fare agire all'interno dell'interporto un'azienda pratese, la Saetta di Andrea Risaliti, perché il servizio offerto era di alta qualità, ma soprattutto in ottooperanza col mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione che si è installato a fine settembre, in ottooperanza quello che ci ha chiesto il Sindaco Matteo Biffoni, che l'interporto interagisca sempre più col suo territorio, e quindi interagire vuol dire creare occasioni anche di lavoro con aziende pratesi, perché ripeto, Prato ha la possibilità di esprimere dei valori molto alti dal punto di vista professionale e industriale.